Andiamo avanti, andiamo avanti con lui Il commesso Pizzo è desiderato parte parvo in condizioni Il commesso Pizzo è un fan club per te Il commesso Pizzo è un mio cugino che lavora in un centro commerciale Per chi non lo sapezzo gli si scrive tutte le cose che dicono Tutte cose mi scrivo, tutte cose, senti qua Cominciamo col primo cliente, reparto informatica Avete filcini per l'ADSL? I filcini per l'ADSL si è pure i cartine, la fibra ottica, ma il computer è che fate da fumare, ma chi vuole lì, chi vuole lì, filtri, filtri, senti qua, sono alla cassa, arriva un vecchietto che deve pagare la tv che ha appena acquistato e mi fa, e allora faccio al cliente, come vuole pagare? E lui, co, quissà così il paese che mai devo passare la banca, si guardi allora io prendo il post, io lo porgo, chi lo prende il post? E ci potete dare, piccola il suo cristiano, ma con questo piano, così il mio post, ma che vuole dire? Lascia a me, lascia a me, lascia a me, vabbè dai, lui che me chiudiamo, sentiamo, consulenza telefonica, squilla il telefono e dall'altra parte sento, ah, quindi siete aperti? No, stai rispugnando e lo bagno dalla mia casa, ma chi vuole dire? 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 Ma chi vuole dire?